dal vangelo secondo marco in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli fate attenzione vigliate perché non sapete quando è il momento è come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vigliare vigliate dunque voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà se alla sera o alla mezzanotte o al canto del gallo o al mattino fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati quello che dico a voi lo dico a tutti vigliate grazie a tutti grazie grazie